insomma è un elemento di cui oggi non possiamo più fare a meno perché perché ha rivoluzionato il mondo dei lavatesta e così come a suo tempo l'iphone ha rivoluzionato il mondo dei telefonini non ne riusciamo più a fare a meno chi vuole essere bella sia grazie a tutti